Sia lodato Gesù Cristo. Un saluto carissimo a voi che ascoltate. La parabola che il Vangelo ci propone oggi è quella dei talenti che vengono distribuiti in modo e misura diversa, ma soprattutto quello che Gesù vuole mettere in evidenza non è tanto la differenza dei talenti e dei frutti che possono dare quanto la disposizione d'animo di chi li riceve. Per cui abbiamo quelli che sono di buona volontà e amano il Signore, per cui grati della missione che dà, mettono a frutto i talenti. I talenti non sono, nella parabola, le capacità come noi li esprimiamo, ma sono dei pesi di metallo prezioso, circa 20-25 kg a seconda del tipo di misura, per cui un talento di argento o un talento di oro vuol dire un capitale enorme. Quindi a chi molto, a chi poco, è sempre molto quello che Dio dà a noi, che sono i mezzi, gli strumenti per far fruttare un capitale che deve tornare a gloria di Dio. Ovvero Dio ci chiede di lavorare in questo mondo con dei mezzi che sono vari e soprattutto sono i capitali della grazia, delle disposizioni, delle situazioni, delle capacità nostre, dei mezzi anche materiali, oltre che intellettuali e morali, che ci vengono dati perché noi possiamo vivere amando il Signore e operando nella sua vigna. Ovvero ci chiede di faticare con i mezzi che Egli ci dà per poter meritare qualche cosa che può essere computato nel Regno dei Cieli. E anche se qui ci sembra di fare molto o poco, in realtà poi tutto viene moltiplicato nel Regno dei Cieli. E il premio è prendere parte alla gioia del padrone, cioè noi che amiamo il Signore lavoriamo per il suo interesse, non per la nostra vita o per il nostro interesse morale, materiale qui sulla terra, ma per il Regno. Quindi noi fatichiamo con i mezzi che Egli ci dà per lavorare per Lui. E i frutti di Spirito Santo sono l'espansione del suo Regno nei cuori degli uomini, ovvero la riconquista dei cuori degli uomini dal Regno nel male perché siano immessi nel Regno dei Cieli, che è il Regno di Dio, strappati dunque al male perché possano entrare di là. Dunque il lavoro che il Signore ci dà non è semplicemente un fare delle cose buone, materiali qui sulla terra, ma fare delle cose buone, materiali e spirituali che possono avere dunque dei frutti nel mondo dello Spirito. È la moltiplicazione dello Spirito dell'amore, o meglio il frutto che viene dato da un piccolo seme grazie a una forza, un'energia che ci viene data da Dio. La nostra vita dunque ha senso solo se facciamo il bene nell'ordine del Regno di Dio perché è quello che rimarrà in eterno. Tutto quello che invece facciamo qui per noi o nell'ordine materiale finirà con la nostra storia, con la nostra esistenza qua, senza lasciare traccia nel futuro dell'eternità. Quello che viene rimproverato al servo malvaso è appunto la sua non disposizione ad amare Dio e viene anzi giudicato in un'altra parabola. Gesù, il Signore, il padrone della vigna, dice sei forse invidioso perché io sono buono. Dunque la differenza sta non tanto nel numero dei talenti che viene dato, ma nella disposizione d'animo del malvagio, il quale, pur essendo malvagio, riceve il talento per poterlo far fruttificare e così riscattarsi, avere la possibilità di passare dal suo mondo di egoismo, di malvagità e di odio per Dio a un mondo di eternità, di gioia col Signore, di pace, di amore, di bene, di luce. Il servo malvagio persiste nella sua malvagità e restituisce quello che è il talento di Dio che insieme conteneva anche il precetto del lavorare per il regno di Dio. È questo che il malvagio rifiuta, lavorare per il bene di Dio, per l'interesse di Dio. Il malvagio lavora solo per sé stesso ed è pigro, così viene giudicato, pigro per quanto riguarda il bene, attivissimo invece per quanto riguarda il male e l'egoismo. A noi dunque lavorare nel poco, nel molto quello che ci è dato di fare, perché la finalità della nostra vita è entrare nel Regno dei Cieli e lavorare perché il maggior numero delle anime vi possano accedere. Prenderemo parte alla gioia del Signore. Dio vi benedica.